La Serie B gioca, la Serie C come previsto, aspetta e dunque con una decisione senza precedenti i calendari vengono ancora una volta rinviati, questa volta all'8 settembre con il campionato che partirà il 15 settembre, solo dopo il verdetto del CONI sul ricorso presentato dalle società escluse dalla Serie B con la decisione di bloccare i pescaggi. Confermata la divisione geografica dei Gironi delle ultime stagioni, nord-ovest, nord-est e centro-sud. I Gironi saranno resi noti nello stesso giorno della compilazione dei calendari. Il presidente della Lega Pro Gravina aveva detto che con questa incertezza non era possibile scendere in campo e la sua linea è stata confermata dall'Assemblea dei Presidenti. Dunque da una parte la Serie B che partirà come se niente fosse venerdì con il rischio in caso di integrazione di altre società di rimettere mano al calendario quasi sicura che il Collegio di Garanzia del CONI lasci le cose in questa maniera e dall'altra le incertezze della Serie C. Una situazione mai vista neanche nelle stati più caotiche del calcio, con le squadre dunque che dovranno rimanere quasi un altro mese senza partite ufficiali e senza conoscere avversarie e ordine delle trasferte.